Ah, parla di qualcosa. Faccio il mio balletto. No, vabbè, fai il tuo balletto, dai. Adesso Rosa farà il suo balletto di presentazione del suo canale che sarà prossimamente, faremo un canale solo per lei e Linda. Faranno due youtuber, faranno il, trasmetteranno e vi presenteranno il loro canale che si chiamerà Bingolandia. Prego, vai col balletto. Questa è la sigla del fenicottero, però potevi anche cantare e dire qualcosa. Scusa, il replay? Ancora non è stata creata bene la canale, non siamo sicuri. Ok, va bene, allora lo faremo prossimamente, faremo questa sigla insieme. Come sarà il... Saremo io e Linda che faremo la sigla insieme e dopo avremo deciso anche se la sigla sarà questa o se la vorremmo cambiare. Bene, ottima cosa. Fai un saluto ai tuoi sostenitori che sono io. Ciao. Ciao. E poi dopo faremo questo nuovo canale. Arrivederci, grazie per la vostra attenzione. Ciao. Grazie.